Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di blog Sicilia, nuovo appuntamento con Talk Sicilia e con la serie di interviste che stiamo realizzando a Palermo sul comune di Palermo intitolate Palermo verso il suo futuro. Stiamo incontrando tutti gli assessori della giunta che si è inserita da qualche mese, la giunta di Roberto Lagalla, proprio per farci raccontare qual è la visione di Palermo di domani, di dopodomani, ma anche dei giorni a venire, degli anni a venire, insomma cosa si vuole fare in questa città che è certamente avvolta da mille problemi. E' il nostro ospite questa sera, Antonella Tirrito, che ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi, grazie per essere qui, assessore. Assessore alla protezione civile, ma all'emergenza abitativa, all'innovazione, a diverse deleghe, adesso man mano andremo affrontando i vari argomenti che la riguardano. Come sempre in questa intervista è alla mia sinistra Pietro Minardi, il collega di Blog Sicilia che si occupa di seguire le cose della comunale, quindi non soltanto la politica politica, ma soprattutto i fatti, quello che avviene, il consiglio, le attività degli assessori e soprattutto quello che c'è nella città e nel suo degrado, che va denunciato e raccontato anche agli assessori che spesso lo sanno, ma magari hanno bisogno, fra virgolette, di essere un po' sollecitati, me lo permettete questo passaggio, assessore. Allora, voi si darete da poco, innanzitutto, e il primo argomento sul quale vorrei concentrarmi è proprio quello dell'emergenza abitativa, Palermo è una città che vive emergenza abitativa da decenni ormai. Eh sì, parliamo di emergenza, purtroppo questa emergenza a Palermo ormai si è cronicizzata, quindi piuttosto che parlare di emergenza parlerei proprio di quello che ha bisogno Palermo, che sono delle politiche abitative, che guardano questo problema più che altro pensando che l'emergenza, diciamo, è una piccola parte di qualche cosa che invece è un problema veramente molto ampio, fatto da una serie di interventi abitativi che purtroppo negli anni non si sono fatti e quindi costano di tanti occupanti abusivi. Gli immobili del comune sono quasi tutti occupati e quindi in atto, diciamo, abbiamo realmente il problema di non poter assegnare immobili. Oltretutto, diciamo, dopo il Covid sono anche aumentati molti gli sfratti perché purtroppo la difficoltà economica e sociali in molte situazioni, le stratificazioni della nostra comunità si sono peggiorate e quindi sono aumentati gli sfratti e questo, diciamo, ha determinato una grave difficoltà proprio in questo mondo. È chiaro che per combattere abbiamo bisogno di nuovi immobili. Ecco, mi permetta, penso che l'emergenza o comunque il fronteggiare il problema vada su più livelli. Da una parte è quello dell'assegnazione degli immobili, da un'altra parte è quello del bonus affitto, diciamo così, ma fondamentalmente c'è da selezionare anche, da verificare come intervenire sulle occupazioni abusive, sul diritto reale, perché non è sempre certo che chi occupa abusivamente abbia un diritto reale e verificare quindi anche ove eventualmente intervenire, ove no. Penso che siano questi i tre livelli, mi corregga se sbaglio nella mia volontà. Assolutamente, ci vuole veramente un controllo anche di queste famiglie, da uno stato patrimoniale, perché è giusto il diritto primario di ognuno, di ogni famiglia avere la casa, ma è giusto che ci sia comunque la condizione che sia quella appunto della difficoltà economica sociale. Quindi il controllo è importante ed è per questo che da subito sono intervenuta su queste liste. Ad oggi la lista dell'emergenza abitativa costa di 2250 famiglie ed è importante stabilire realmente l'entità di questa lista, perché spesso troviamo gli stessi nomi in più liste, quindi nella lista per esempio dell'emergenza, nella lista degli occupanti, nella lista anche di chi è richiedente degli immobili ERP, quindi quelli del comune. Quindi intanto c'è bisogno di fare una cernita per capire il reale numero di questi nuclei familiari che necessitano di un'abitazione e poi verificare i controlli. È chiaro che è proprio nell'impegno dell'amministrazione e mio sicuramente quello di stabilire se effettivamente un nucleo familiare ha necessità reale della casa. Fatto questo prima cernita e ottenuto poi un risultato nel quale sappiamo ragionevolmente in maniera certa quanti sono quelli che hanno bisogno, con che gravità, perché c'è una graduazione anche in questo, a questo punto bisognerà intervenire come? Allora sicuramente molti immobili vengono dai beni confiscati e negli ultimi anni è intervenuto anche la categoria delle persone che possono anche avere un'abitazione in autorecupero e questo perché alcuni beni archivavano ma non erano... Chiediamo anche cos'è l'autorecupero per chi ci ascolta. Si dà la possibilità ad alcune famiglie che sono all'interno della lista, ove hanno la possibilità di poter intervenire economicamente o in maniera appunto fattiva su delle opere strutturali della casa, ovviamente di piccola entità, anche queste sono prese in considerazione in modo tale che anche chi è nella lista più sotto, ma ha la possibilità di poter fare delle opere di manutenzione nella casa, possa comunque avere un'abitazione. Molti arrivano dai beni confiscati, altri invece si sta capendo dove reperire altri immobili. Sicuramente ho guardato prima di tutto nel mondo della curia e poi ho pensato anche ad altri enti, il Ministero degli Interni o comunque altri enti che possano darci la possibilità nella messa a sistema, programmando degli interventi, a reperire degli immobili. Ragionevolmente, quando possiamo pensare di avere un'idea più precisa, non dico la soluzione, un'idea più precisa dei tempi di intervento, deve uscire almeno dalla parte che riguarda la vera e propria emergenza, quelle che sono le persone veramente in difficoltà? Guardi, l'emergenza per fortuna a Palermo è ben fronteggiata, grazie comunque ai servizi sociali, grazie comunque ai ricoveri di primo approdo e quindi in questo possiamo dire che siamo abbastanza programmati nelle operazioni. Per quanto riguarda il resto, sicuramente c'è una linea, c'è una visione e c'è una programmaticità che è in atto e che quindi ha ben chiaro gli obiettivi. Quindi non siamo però in grado di dare un obiettivo temporale? Non è facile. Non è facile per carità, dico anche orientativo, non siamo ancora in grado di dare un obiettivo. Sicuramente per le liste, entro sicuramente quest'anno, li avremo assolutamente con una chiarezza massima. Su quel dato sicuramente possiamo lavorare. Già questo è un dato temporale che ci dà comunque un conforto di visione della situazione. Questo per quanto riguarda l'emergenza abitativa, a questo punto passiamo un po' ad altro, Pietro passo la parola a te per le altre domande. Palermo è grande, Palermo è una città da 680.000 abitanti, una delle principali emergenze riguardava la protezione civile, nel senso che, diciamo, nei prossimi giorni è prevista anche allerta meteo, per esempio in molti quartieri soffrono di difficoltà nella gestione anche del traffico, della viabilità a causa degli allagamenti che avvengono in maniera continua. Fra queste zone c'è chiaramente via Matteo Bonello, area del papiletto, di cui si sta occupando la protezione civile in compartecipazione con l'autorità di Bacino. Ecco, Assessore, negli ultimi periodi i rapporti tra protezione civile comunale e quella regionale non sono stati proprio ottimali. Ecco, diciamo, l'alluvione del 15 luglio 2020 insegna e i mancati risarcimento alle famiglie anche. Vorrei capire se questi rapporti sono migliorati e come sta procedendo anche l'iter di via Matteo Bonello sul quale i commercianti, ma anche i cittadini, attendono risposte. C'erano anche altre situazioni, ho chiesto di Matteo Bonello, ma chiaramente partiamo da lì. Se vogliamo parlare d'altro, parliamo anche d'altro. La protezione civile in piano emergenziale è intervenuta, ha fatto i lavori di messa in sicurezza e li ha completati. Durante le ultime piogge, il bypass che è stato fatto in modo tale proprio da non determinare più quell'allagamento ha tenuto benissimo e quindi non si è verificato nessun intoppo a livello proprio di allagamento. Purtroppo è ceduta una parte della strada. Su quei lavori, la competenza e l'autorità di bacino, c'è comunque un'programmaticità a livello regionale perché sono stati già messi in finanziaria i lavori che sono sulle circa 500 mila euro. La protezione civile sta collaborando con l'autorità di bacina per quanto riguarda il progetto, quindi questo rapporto di collaborazione è molto buono e sta continuando a dare i suoi fatti. L'assessore magari non se lo ricorda, ma sicuramente i lettori sì. Non era assessore però. Esatto, i problemi che ci sono stati sul canale Mortillaro, tanto per citarne una. Ecco, come tempistiche per riaprire quindi una strada che è centrale per quanto riguarda l'area del papiretto? Il progetto dei lavori sarà sicuramente pronto entro l'anno, per quanto riguarda poi la tempistica, questo dipenderà da dopo quando verrà approvato il progetto. L'importante è avere un avanzamento, è chiaro che poi ci sono tempi, ma conoscere i tempi dell'avanzamento in maniera da informare anche chi ci ascolta di quando sarà pronto il progetto, di quando potranno essere avviati determinati lavori per tutti questi che altri. Questo dipende molto dall'autorità di bacino, perché la protezione civile del comune, ripeto, lavora in termini più che altro di messa in sicurezza nelle urgenze, nell'emergenza. È un'opera di collaborazione che sta facendo insieme all'autorità di bacino. Sta collaborando l'ingegnere Di Lorenzo anche a questo progetto insieme all'ingegnere Di Ganci, ma ripeto, l'autorità, il potere, ce l'ha l'autorità di bacino, è di competenza l'autorità di bacino. Pietro, c'è tanto altro che riguarda la protezione civile di cui ne parla. Infatti io volevo un attimo capire su questo discorso delle competenze, per esempio citando un altro caso concreto che è quello del canale mortillare o non via del Regione, che è stato recentemente riaperto, quanto il caso di via Morelli, che è un'altra zona nel cuore di Cruillas, una strada che è anche essa attraversata dal canale mortillare e che ha avuto dei cedimenti. Ecco, in questo caso la protezione civile comunale che interviene o è l'autorità di bacino? Sempre l'autorità di bacino. I canali sono bene o male sempre sotto l'autorità di bacino all'intervento della protezione civile, mi permetto di dirlo io, è nel momento in cui si verifica l'emergenza. E anche per spiegarlo... Sì, certo, lo facciamo capire. Per intenderci, la mia prima opera da quando mi sono insediata assessora è stata proprio la messa in sicurezza della Scala Vecchia, quella per intenderci l'acchianata di Santa Rosalia, la protezione civile ha fatto il progetto, ha seguito tutta la messa in sicurezza e per fortuna l'ha resa fruibile per il giorno dell'acchianata, quindi il 3 e il 4 settembre. Quella è stata di competenza della protezione civile che interviene sempre nella messa in sicurezza, cioè per togliere ciò che è l'emergenza, quindi per mettere in sicurezza qualcosa che può essere, diciamo, può far rincorrere nel pericolo i cittadini. Allora, assessore, mi permetto di citare l'ultimo caso? Dico, questa è la Scala Vecchia, era uno degli argomenti che volevi affrontare, assolutamente, quindi prima che tu citi un altro caso vorrei entrare un attimino nel dettaglio della Scala Vecchia, perché i pali miteni ci tengono, è inutile che ce lo nascondiamo. Eh io ci tengo più io. Ecco, è stata messa in sicurezza, si è riuscita a fare l'acchianata di quest'anno, avremo da pensare anche a quella dell'anno prossimo, ma non sarà più protezione civile, il problema, o sbaglio? Allora, la Scala Vecchia è stata messa in sicurezza e devo dire egregiamente, sono stati fatti dei muretti, sono stati presi dei muretti con dei pali in ferro e alluminio, sono stati rispettati i canoni dettati dalla sovrintendenza e è stato rispettato anche l'aspetto naturalistico e paesaggistico, e anche tratti di strada, di ciotolato, sono stati ripresi perché presentavano proprio delle buche che rendevano difficoltoso e pericoloso il percorso e devo dire che quest'anno, grazie alla collaborazione di tantissimi volontari ai quali mi sento veramente di dire il mio grazie di cuore, perché senza di loro non sarebbe potuta andare così, perché ricordiamo che la Scala Vecchia e comunque l'acchianata in sé per sé è un percorso al buio. Quest'anno, grazie alla protezione civile e a tutte le associazioni, sia anche della provincia e della città metropolitana, ma anche della regione, con dei torri faro è stata veramente illuminata e questo ha permesso di renderla mediamente più luminosa e quindi più sicura. Questo è un intervento che la renderà fruibile per molti anni. E' chiaro che poi ha bisogno di alcuni interventi che non dipenderanno più della protezione civile comunale, ma che interviene lì una parte più strutturata e più grossa per rendere non solo fruibile la strada, ma evitare per esempio i pericoli rispetto alle frane. Quindi l'assessorato territorio e ambiente in questo caso. Soltanto per chi non dovesse saperlo, precisiamo che la Scala Vecchia di Monte Pellegrino è un percorso antico che è anche questo sottoposto al controllo della sovrintendenza proprio perché ha una storia che si percorre solitamente, anzi quasi esclusivamente a piedi, soprattutto durante il periodo della famosa acchianata, cioè del pellegrinaggio verso il santuario di Santa Rosalia a cui i palermitani sono devoti. Questo lo dico anche per chi dovesse seguirci fuori dalla provincia di Palermo che magari non conosce le abitudini di Palermitani per farlo capire. Mi permetto anche di integrare che proprio quest'anno all'inizio dell'acchianata è stato posto un albero proprio all'inizio del percorso alla presenza del sindaco ma anche dell'Arcidesco, del vice sindaco e di altri assessori insieme al presidente dell'associazione Tiranium e Rosalie. Quest'albero è stato un po' il simbolo di questo inizio di questo percorso che per ricordarlo comprende 13 comuni della nostra Sicilia e finisce proprio all'eremo di Santo Stefano e che sicuramente devo dire è stato veramente di grande ricchezza per il nostro territorio anche per collegare non solo l'aspetto artistico monumentale, culturale di tutto il percorso ma anche una filiera agroalimentare che promuoverebbe anche questi territori e devo dire che il sindaco ha sposato benissimo questo itinerario tant'è che subito con delibera di giunta è rientrato il comune di Palermo che era l'unico purtroppo che ancora non ne faceva parte. Cosa quasi ridicola se mi permettete di dirlo. Insomma diciamolo. Mi dispiaceva dirlo ma ecco è stato un impegno che ha voluto questa amministrazione che ha voluto il sindaco fortemente è rientrato praticamente è stata la nostra diciamo prima delibera di giunta e poi subito è entrato Palermo nell'itinerario. Diciamolo dunque che Santa Rosalia è sì la patrona della città di Palermo a cui i palermitani sono affezionati ma è un patrimonio dell'intera regione in buona sostanza. Pietro vuole fare altri esempi sul... Diciamo optere per un altro argomento visto che il tempo è anche tirando passere all'innovazione tecnologica e in particolare ad una società che per il comune di Palermo è di particolare rilievo ovvero SISPI è ancora senza una testa è ancora un ente acefalo visto che comunque parliamo di un ente che per il comune di Palermo e per l'innovazione tecnologica in particolare è centrale. Anche perché ricordiamolo sempre per chi non dovesse ricordarlo SISPI è stato al centro di un attacco informatico importante prima che si eseghasse questa giunta che però ha creato notevoli problemi un po' a tutto il sistema informatico e non soltanto quindi alla gestione del comune. SISPI è il braccio operativo di questa amministrazione collabora in modo molto stretto con il settore dell'innovazione tecnologica che sicuramente costa di alcune criticità perché abbiamo poco personale in questo momento tecnico un po' tutto il comune è scarso di personale esatto e quindi questo diciamo ci da ci mette un po' in difficoltà però devo dire che purtroppo dopo la Carazzo stiamo cercando di mettere tutte le nostre attenzioni le nostre forze nei nostri progetti anche nei prossimi e l'attenzione è quella proprio sulla sicurezza sulla efficiente sul rendere più efficienti alcuni processi per cercare di sburocratizzare alcuni impegni e comunque purtroppo i cittadini cercano di fare con grande difficoltà tra un ufficio e un altro renderli più digitali possibili un'interconnessione di dati e di informazioni tra le piattaforme e poi è stato anche finanziato nei prossimi progetti proprio il rifacimento del sito c'è un occhio attento anche se alcuni progetti del turismo sul rendere appunto molto digitali alcuni percorsi sul unire anche alcune piattaforme per fare sì che il cittadino non solo abbia più facilità nel sbrigare ciò che è nei loro servizi a necessità ma soprattutto riesca a essere più partecipativo nei processi del comune quindi possa intervenire non solo possa avere per esempio acquisire delle informazioni non solo a livello proprio di servizio quindi a livello amministrativo ma anche delle informazioni degli eventi di ciò che accade in città ma possa anche intervenire in modo partecipativo quindi un cittadino non più diciamo dimenticato ma bensì proprio ascoltato che è sempre più partecipativo quindi l'informatica a servizio della democrazia partecipata anche se un ruolo importante ce l'avrà evidentemente anche la SISPI e tutto il sistema informatico nell'anagrafe nei servizi anagrafici in quello che viene rilasciato sì l'anagrafe sicuramente ha avuto delle difficoltà infatti con l'assessore e con parte della SISPI abbiamo pensato alla digitalizzazione di alcuni servizi la carta di identità alcuni documenti sul reperimento di questi documenti per aumentare il numero proprio del front office dove poterli reperire e quindi siamo sicuramente sull'idea che la digitalizzazione e la tecnologia l'innovazione cioè il pensare a una città che sia sempre più smart deve passare sicuramente da un'innovazione tecnologica e quindi una tecnologia a servizio del cittadino ma che possa anche aiutare l'amministrazione nel rendere più veloci alcuni servizi anche proprio per quello che ci siamo detti visto che il comune ha in questo momento una difficoltà nel personale esattamente Pietro abbiamo gli ultimi due minuti o poco più quindi una domanda secca e una risposta secca allora sempre sull'innovazione tecnologica uno dei percorsi di cui parlava l'assessore Tirrito sicuramente è quello dei servizi cimiteriali c'è stata una fortissima richiesta da parte delle agenzie pompe funebri relativamente al fatto di rendere operati i siti del comune per poter usufruire di alcuni servizi per lo stato civile perché per esempio capitavano giornate in cui non c'era l'ufficiale adatto e loro rimanevano fermi a che punto è questo percorso sono stati fatti passi in avanti anche al netto di alcune difficoltà non solo di persone ma anche di uffici visto e considero che questo servizio va girando diciamo fra la piazza Giulio Cesare via Storino e quant'altro sì sì stiamo proprio valutando questa cosa piattaforma per piattaforma assessorato per assessorato insieme al sindaco insieme ai responsabili della SISPI stiamo girando proprio facendo delle riunioni proprio predisposte con i vari assessorati in modo tale da proprio recepire quali sono le problematiche e con la tecnologia riuscire a aiutare questi a rendere più efficienti questi servizi sicuramente come ho detto poc'anzi l'anagrafe e la parte dei servizi annessi al cimitero ha delle difficoltà ma anche le attività produttive costano di alcuna troppa burocratizzazione quindi ecco piattaforma per piattaforma l'idea dell'innovazione e l'idea quindi di questa amministrazione è quella di rivedere un po' tutto partire dalle problematicità e riuscire a con la digitalizzazione a renderli più smart questi servizi però gestivamente nell'ambito di questa sindacatura riusciremo ad avere una città nella quale l'accesso alla maggior parte dei servizi può essere online? è la cosa che noi vogliamo e quindi lavoreremo per quello assolutamente bene il tempo è finito grazie a Pietro Minardi che è stato a noi grazie soprattutto all'assessore che sicuramente inviteremo di nuovo perché di domande ne avevamo un'altra decina ma il tempo è quello che è grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia arrivederci a tutti i nostri spettati